Benvenuti a tutti nel mio canale, io sono Softerba e oggi andremo ad aprire 10 forzieri Razador Come vi avevo promesso nell'altro video dove ho aperto 10 forzieri Nemere, oggi andremo ad aprire quelli di Razador Nella speranza di droppare almeno un item raro, cosa che purtroppo non è successa con quelli di Nemere Qua ci sono i bauri di Razador di cui droppano 100 ostriche, 10 core draconesi leggendari, 1 anello esperienza onora, 20 perle di uno dei tre colori Forzieri Cinture, bonus per skinarma e buono per costume, Forzieri Pest, Forzieri Cavalcature, 2 Forzieri Sole, la pietra lunare, quella che andiamo a sperare che oggi ci dia in uno di questi bellissimi 10 forzierini Emo draconico 100, vabbè i soliti elmi 100 per le razze Le scarpe del fuoco, quelle da PWM che all'incontrario di quello di Nemere che dava le scarpe dell'oceano che sono da PWP E le solite armi per le varie razze del 65 Bene, io direi di aprire tutti i 10 forzieri, ho paura di guardare anche qua il drop che ci sarà Speriamo in una piccola manata di fortuna, chi lo sa, pietra lunare, dai, speriamo Intanto apriamo i 10 forzieri Oh mamma mia ho già letto, bene bene bene, allora iniziamo dall'inizio ma ho già visto l'effetto sorpresa Bene, core draconis leggendari 10 pezzi, artigli di scarpeo più 9 e spazzatura, bonus per skin arm, va bene, però un po' lo andremo a cambiare Forze delle cavalcature, un elmo dettaglio draconico più 0 che dovrebbe essere quello da guerriero E ventaglio di salvezzo più 9, doppio il tappo draconico più 0 che è quello da ninja Le scarpe del fuoco da PWM La famosa pietra lunare che ci ha finalmente droppato, eccola qua, bellissima, splendente come al solito E il forziere pet che andiamo ad aprire Beh, devo dire che questi 10 forzieri non ci hanno dato cose bruttissime Ci hanno dato forziere cavalcatura, forziere pet e vabbè, un buono per skin arma Che non fa mai schifo Tutto il resto si può rivendere tranne le armi che io direttamente porterò Oh, mini drago, 2000 HP, lycan più 15, difesa lycan 5% E il forziere cavalcatura mi darà l'estriero nocturnus Che dà la bellezza di 2000 HP, 30 mostri, difeso 100 Questi le buttiamo subito dentro il magazzino Per non andarle a utilizzare Falendo sulla cavalcatura, per sbaglio E poi andiamo direttamente dalla sorella della bottegaia Chiamiamola sorella della bottegaia Dove vedremo che buono... Cioè, oggi, come tutti i giorni poi E andiamo a vedere cosa ci dà l'aiutante 20, la sorella della bottegaia Che buono arma ci dai Ti ho dato il taglio estirpa denti Più Bello, molto carino Per la mia sciamana buffo sarà molto, molto carino Inserirgli Adesso Da che ci siamo prima di finire Il video Andiamo a spaccare Maiko Che è un mio amico Ovviamente scappa E va bene, con questo vi ringrazio ragazzi È stato un piacere Riavervi nel mio video Lasciate un like E... Al prossimo Ciao a tutti